Continuiamo a rimanere su Trapani parlando adesso di un fatto specifico che è l'approvazione del regolamento dei servizi funebri e cimiteriali appunto del capoluogo. Presidente della commissione consigliare che ha portato a termine l'iter di questo nuovo regolamento assolutamente funzionare, ce l'ho qua in studio, è l'avvocato Massimo Toscano, consigliere comunale a Trapani. Bene ritrovato. Allora, spieghiamo subito che cosa significa questo nuovo regolamento per i servizi funebri e cimiteriali. Ok, intanto mi preme ringraziarvi per lo spazio che si è dando a disposizione della prima commissione consigliare che è composta anche da consigliere Spada, Passaracqua per Alta, La Barbera e Lipari, credo che sia corretto e doveroso dirlo. Nonché il fatto che si tratta di un regolamento per la prima volta condiviso con gli operatori del settore, quindi con le imprese funebri, con i cittadini perché parte da un'istanza di un cittadino che non riusciva a poter acquistare un loculo vicino al conuge che era deceduto nel tempo precedente e il vecchio regolamento non lo prevedeva. Noi abbiamo da questa istanza rielaborato tutto e aggiornato il regolamento alla legge numero 4 del 2020. Abbiamo avuto la partecipazione dell'amministrazione, del segretario generale, degli uffici tecnici e anche dell'ASPE. Quindi per la prima volta ritengo che... Una concertazione globale, praticamente. Sì, come è giusto che sia, per ognuno dare il proprio contributo con le proprie competenze. Detto questo, ritengo che sia un regolamento anche innovativo perché ci sono delle idee anche graziose come ad esempio la geolocalizzazione, quindi la possibilità di fornire a coloro che risiedono all'estero ma non per forza all'estero, di poter attraverso un'applicazione che il Comune metterà a disposizione individuare la tomba del proprio defunto, vederne anche lo Stato e con delle imprese che potrebbero essere anche convenzionate con il Comune di Trapani per mettere dalla polizia alla manutenzione ordinaria o straordinaria della propria tomba o anche la semplice apposizione dei fiori. E quindi, e poi controllare e monitorare se effettivamente ciò viene fatto o non viene fatto. Quindi questo significa che vanno predisposti delle telecamere? Delle telecamere, sì. Abbiamo anche previsto un elenco proprio dei sepolcri, quindi delle tombe all'interno del cimitero anche qui consultabile in modo digitale. Abbiamo previsto anche l'inumazione e ringrazio anche i consiglieri comunali in particolare anche il consigliere Caruccio per lo spunto e l'inumazione anche per le persone meno ambienti già era prevista, era gratuito ma anche per le persone ambienti perché molti vogliono essere, diciamo, seppelliti a terra e quindi questa possibilità, ecco, gli veniva preclusa. Più tardi possibile, gli veniva preclusa. È stata prevista anche l'istumulazione straordinaria per rispondere a quella problematica che tempo fa ha riguardato il cimitero ovvero l'impossibilità di poter estumulare i loculi dal primo di maggio al 15 di settembre questa volta attraverso anche l'apporto dell'ASP nella persona del dottore Mollica abbiamo avuto una nota dove non occorre il parere dell'ASP quindi già si potrà fare tranne in caso eccezionale dove questo parere dovrà essere di nuovo, diciamo, fornito e quindi anche questo è un buon, ottimo risultato. Abbiamo eliminato l'obbligo da parte delle imprese funebili di essere inseriti in un elenco per il trasporto dei servizi gratuiti per le persone indigenti perché secondo me era improprio questo obbligo. Allora l'abbiamo sostituito con la disponibilità quindi le imprese funebili potranno dare la loro disponibilità ad essere inserite in un elenco e poi abbiamo previsto che il comune dovrà comunque sia prevedere una somma in bilancio per il pagamento delle spese vive perché tutto a carico delle imprese funebili per quanto possa essere bello concretizzare il principio solidaristico ma non credo che sia, che era anzi opportuno e quindi questa è anche stata una bella novità. Abbiamo anche previsto uno sdellimento di quelle che sono le pratiche di accesso al cimitero da parte delle imprese funebri in osseguo alla legge numero 4 del 2020 e con la possibilità di riconfermare i presupposti a fine anno con una semplice autodichiarazione. Quindi questo per agevolare il lavoro di chi opera effettivamente all'interno del territorio. E così come sempre per agevolarlo, questo lavoro stiamo cercando di spostare la gran parte degli uffici laddove ci sarà la possibilità che si occupano proprio dei servizi cimiteriali all'interno del cimitero. Per me è inconcepibile che le imprese funebri per una pratica vadano in una via, per un'altra pratica vadano in un'altra via creando semplicemente un disagio poi per chi in quel momento deve elaborare il lutto che non può stare dietro alla burocrazia. Quindi dobbiamo essere anche molto più pratici da questo punto di vista. Abbiamo anche previsto per le tombe familiari la possibilità di poter stimolare i loculi appartenenti a soggetti non consanguini. Perché? Perché sempre da questo confronto con le imprese funebri ci siamo resi conto che molte tombe familiari prevedono dei loculi che venivano dati per esempio alle badanti. E siccome il regolamento prevedeva la possibilità di stimolare solamente ai consanguinei questi loculi pur se sono presenti a 40-50 anni non potevano essere stimolati. Allora abbiamo permesso ai titolari di Ditti Concessori di poter stimolare questi loculi ma nel rispetto sempre della persona che anche se non c'è più ma dei resti ossei di poter essere inseriti in un ossario all'interno sempre della stessa tomba di famiglia. E recuperare quindi anche dello spazio perché è sempre brutto da un punto di vista diciamo più che altro a dirlo ma c'è una carenza di posti che deve essere risolta. Si è previsto anche un adeguamento di tutto il regolamento che è di circa 80 articoli. C'è stata una bella discussione in Consiglio Comunale ma soprattutto un bel lavoro fatto dalla Commissione. Tutti i componenti sono riusciti a dare un grande contributo ma la cosa che mi piace sottolineare è proprio il contributo dato dalle imprese funebri e il contributo dato, oltre che dagli uffici che era normale che fosse così e dall'amministrazione che era propensa a farlo il contributo dato dai cittadini perché per esempio abbiamo previsto ecco un'altra cosa molto graziosa e giusta e doverosa il ricongiungimento familiare nel senso appunto che intanto la possibilità di poter acquistare anche nuovi loculi nel nuovo padiglione e l'abbiamo prevista dando la possibilità dell'acquisto cartolare quindi nella sede di progettazione già si potranno acquistare i nuovi loculi mentre attualmente la possibilità ai conugi di poter acquistare i loculi vicino al proprio conuge defunto con l'unico presupposto di avere almeno 75 anni di età e quindi dare diciamo anche un senso più umano a quello che è già un momento di difficoltà questo perché? in questo caso però spesso quasi sempre succede che chi muore prima diciamo così dai due conugi viene seppellito accanto ad altre persone defunte come si può fare il ricongiungimento? cioè devi estumulare e rimetterlo in un nuovo posto? abbiamo due alternative laddove si dovesse trovare un posto per assurdo nell'attuale diciamo cimitero o vicino al conuge che già è decisivo allora quel posto può essere giustamente acquistato ma nel momento in cui ciò non è possibile perché può capitare che tutti i loculi sono tutti già a punto pieni allora si può traslare quindi in quel caso il feletro in un altro posto del cimitero dove sono disponibili due posti vicini e quindi procedere all'acquisto del secondo loculo in un'altra appunto posizione del cimitero l'importante è permettere il ricongiungimento guardate questa lettera che è stata scritta conugi e conviventi quindi figli queste cose per i figli è sempre possibile anche il ricongiungimento però in questo momento diciamo che noi la priorità la diamo sempre ai conugi e ai conviventi perché diciamo il legame più diretto da questo punto di vista è normale noi vorremmo estenderlo a tutti ma i familiari i parenti ma dobbiamo anche tener conto che ci sono degli aspetti tecnici e critici che devono essere anche valutati per cui non possiamo promettere qualcosa che poi non possiamo realizzare sarebbe anche una presa in giro con il fondo dei cittadini perché torno a dire questa lettera è stata molto commovente questa persona avanti con l'età chiedeva di poter acquistare un loculo vicino alla moglie che già l'è deceduta e ciò gli era impossibilitato da parte del vecchio regolamento perché col vecchio regolamento l'acquisto potrebbe essere fatto solamente al momento del decesso del proprio congi e che era un po' un'assurdità invece noi abbiamo esteso questa possibilità in qualsiasi momento della vita l'avete snellito ammodernato reso insomma più funzionale obiettivamente le esigenze della società attuale il regolamento dei servizi funebri cimiteriali siete contenti? siamo contenti perché abbiamo cercato anche di far partecipare la cittadinanza in che senso è un'altra idea che è partita dalla commissione credo che il consigliere passa l'acqua a spada ma tutti quindi peraltro la Barbera che non voglio nessuno dimenticare e abbiamo previsto un partenariato così chiamiamolo in questo modo anche se è improprio con gli istituti tecnici perché vorremmo anche progettare la nuova illuminazione cimiteriale quindi la stessa illuminazione votiva la manutenzione ordinaria consegnare agli istituti tecnici che potrebbero adempere in questo caso a percorso scuola-lavoro formazione-lavoro e in cambio l'amministrazione e lì sindo è stato d'accordo ci mancherebbe perché è stato anzi uno dei propulsori da questo punto di vista in cambio prevedere delle borse di studio per gli studenti più meritevoli e meno ambienti quindi un'altra novità senti noi abbiamo pure una parte monumentale nel cimitero di Travoli dove si sono seppelliti personaggi insomma che hanno fatto la storia di questa città lì il regolamento cosa avete previsto? e allora lì è un altro regolamento che si occupa il regolamento edilizio cimiteriale però su questo mi piace spendere se è possibile solamente pochissimi minuti nel senso che noi già come prima commissione ci siamo occupati di questa parte monumentale perché abbiamo visto che moltissime tombe erano divelte erano distrutte ed era anche degoloso per chi deve elaborare il lutto e già si trova in un ambiente che non era completamente diciamo predisposto allora abbiamo chiesto tramite la sommatendenza e tramite gli uffici tecnici dei soparlochi che abbiamo fatto la possibilità di poter costruire nelle tombe divelte a terra le colonne rispettando il decoro architettonico della parte monumentale in questo modo avremmo reso più degoloso il cimitero e nel contempo aumentati anche i posti perché una cosa è un seppilemento a terra e una cosa sono 4-5 loculi va bene insomma un lavoraccio in senso positivo è normale che è un regolamento perfettibile non è perfetto ma è perfettibile il fatto che sia stato ammodernato obiettivamente merita appunto lo spazio televisivo e di approfondimento e anche da parte mia insomma i complimenti per la sinergia e la caralità del lavoro portato a termine grazie al presidente della prima commissione consigliare Comune di Trapani cioè l'avvocato Massimo Toscano ma estendi complimenti a tutti quelli che hanno contribuito e soprattutto ai cittadini che hanno collaborato appunto dando ottimi suggerimenti ci ritorneremo sulla questione perché capisco che l'interesse collettivo e magari qualche altra specifica dobbiamo farla grazie a voi questo è stata Respubblica Sicilia Chiama Europa arrivederci